5 nuovi primari per l'azienda ospedaliera, ospedali riuniti Marche Nord. La presentazione è avvenuta questa mattina presso la sala riunioni di Piazzale Cinelli nel corso di una conferenza stampa. In ordine di arrivo i direttori di unità operativa complessa sono Alfredo Santinelli, nuovo direttore di anatomia patologica, Carlo Pazzaglia, direttore di immunoterapia e trasfusionale, Luca Dascanio, direttore di otorino laringoioatria e Mauro Mancini, direttore della farmacia ospedaliera e Aurelio Spinelli, neodirettore di medicina nucleare. Dal 2016 ad oggi su 38 unità operative sono stati effettuati 22 processi concorsuali per le strutture complesse, ci spiega il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, con diversi innesti di nuovi direttori, anche quarantenni abbassando l'età media dei primari con elevate professionalità, come dimostrano i dati che hanno elevato le performance e le complessità della casistica trattata. Grazie agli investimenti realizzati con i fondi stanziati dalla regione Marche e con le esperienze di nuovi professionisti, l'azienda ospedaliera, sottolinea la direzione, ha raggiunto traguardi e numeri rilevanti che portano l'azienda a livelli di eccellenza in Italia. Come direzione abbiamo cercato di mantenere velocemente il turnover, tant'è che in quattro anni abbiamo garantito la copertura di 22 primariati su 38 strutture sanitarie. Sicuramente abbiamo aumentato la produzione, abbiamo lavorato sull'abbattimento liste d'attesa, abbiamo aumentato la complessità delle prestazioni, abbiamo lavorato sull'abbattimento della mobilità passiva e sull'aumento della mobilità attiva. Presente alla conferenza stampa anche il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. Questa capacità di tutto il sistema di sostituire rapidamente quelle che sono le figure che vanno via, vanno in pensione, è un primo segnale positivo. Il secondo è la qualità della scelta, il meccanismo di scelta affidato completamente a percorsi tecnici, è cambiato anche questo rispetto al passato, ci sono regole nuove diverse, di fatto non è più una selezione di natura politica, una selezione che avviene attraverso titoli e la prova, ha fatto in modo che in questi anni si alzasse ulteriormente anche il livello e la qualità. Alla conferenza stampa stamane è intervenuta anche Nadia Storti, direttore generale Asur Marche, per la continuità sul territorio dei percorsi terapeutici. Una foto di gruppo poi a chiusura della presentazione ha suggellato questa nuova partenza dell'azienda, nel segno però della continuità con le professionalità che li hanno preceduti e che la voce è velata da un pizzico di emozione della neoconfermata direttrice Capalbo, che ha tenuto a sottolineare come il suo proposito di rinnovare e qualificare Marche Nord, assunto quattro anni fa, è stato spinto sempre dallo stesso grande entusiasmo anche di allora.